Ieri a Civitavecchia si è registrato un nuovo record di casi. Sono stati 38 quelli segnalati nel consueto report della Regione Lazio, nel quale è stato conteggiato il 47enne deceduto all'Umberto I qualche giorno fa. Intanto il centro Buonarroti ha scovato ieri ulteriori 17 positività. Il servizio. Altra giornata nera, quella di ieri, sul fronte Covid-19. Nel consueto report pubblicato dalla Regione Lazio su indicazioni dell'Asle Roma 4 sono stati annunciati 38 casi di positività a Civitavecchia, di cui 16 sintomatici. Si tratta del numero più alto che si è mai registrato nella nostra città, anche considerando la prima ondata, nella quale in città erano attivi tre cluster, nell'RSA Madonna del Rosario e Bello Sguardo e all'interno del reparto di medicina dell'ospedale San Paolo. Ai tanti casi si è aggiunto ieri un decesso, di cui avevamo già parlato. Si tratta del 47enne Civitavecchiese deceduto all'ospedale Umberto I dove era ricoverato da due settimane per avere accontratto il coronavirus. Una morte che fa riflettere, visto che parliamo di una persona che non aveva ancora raggiunto la soglia dei 50 anni e soprattutto che non aveva altri problemi di salute. Intanto, nella giornata di ieri, sono stati eseguiti al Centro Diagnostico Bonarroti altri 227 tamponi rapidi per rilevare la presenza del virus Covid-19. Sono state riscontrate 210 negatività e 17 positività, che dovranno essere confermate con il test molecolare. Il totale delle positività nella giornata di ieri è pari al 7,49%, in calo rispetto al dato del giorno precedente dell'8,19%. Il numero complessivo di test effettuati sale a 3.217, con le positività riscontrate che sono finora 238, pari al 7,40%. Al Centro Bonarroti sono stati consegnati dall'Istituto Zooprofilattico Toscana e Lazio degli esili di ulteriori 26 tamponi molecolari sottoposti a test di conferma sui 180 campioni finora testati in 177 casi e sarà confermata la positività riscontrata al tampone rapido. La specificità del test, cioè la capacità di escludere falsi positivi, risulta quindi attualmente pari al 98,33%. Nel pomeriggio di ieri il Centro Diagnostico Bonarroti ha ricevuto la visita del sindaco Ernesto Tedesco, che ha girato la struttura esterna e con il quale sono state concertate iniziative per evitare l'affollamento degli utenti nelle vie adiacenti laboratorio. Assolutamente contrario al gas al punto da bloccare la Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, di cui è Vicepresidente, è ad aprire una consultazione in città per portare i risultati all'attenzione della Regione. È la posizione del consigliere regionale della lista Zingaretti, Gino De Paulis, in merito all'imminente riconversione della centrale di Torre Valdaliga Nord. L'intervista. Siamo al telefono con il consigliere regionale Gino De Paulis. Come promesso, vista l'intervista che abbiamo realizzato con gli altri consiglieri regionali, Tidei e Porrello, chiediamo anche a Gino De Paulis qual è la sua opinione, la sua posizione relativamente alla riconversione della centrale di Torre Valdaliga Nord di cui si fa un gran parlare. Sulla riconversione al gas io sono contrarissimo, ma è chiaro, questo è un territorio che è stato vessato per anni, è stato occupato da Enel, è stata matrigna con noi, con la popolazione e con questo territorio. Quindi adesso che c'è una prospettiva, una progettualità e una visione anche più ampia da parte di tutto il mondo di tecnologie innovative, noi siamo destinati, costretti, obbligati a subire l'ennesima occupazione di questo territorio. Tramite un'altra volta 20 anni di occupazione, stavolta dal carbone passiamo al gas, sempre un fossile, sempre che inquina, a noi non c'è concesso prendere fiato, noi siamo esclusi da qualsiasi cosa positiva, addirittura da una progettualità mondiale, addirittura questa volta non c'è neanche ricatto occupazionale o perlomeno una prospettiva occupazionale, perché il gas ha pochissimi costi di lavoro, è solo guadagno per Enel, deve consumare il gas che Eni ha acquistato negli anni, deve fare questa centrale a Civivecchia oltre quella di Montarto di Castro, perché anche Montarto sta per essere riconvertito e questo territorio è all'oscuro di questa cosa, tant'è che nella commissione preposta della quale sono vicepresidenti e regione c'è in discussione il piano energetico regionale, io potevo fare gli emendamenti di contrarietà sul gas, li farò, li potevo presentare, li presenterò, lo posso fare in consiglio e lo farò, ma sarebbe stato inutile, sarebbe stato poco, quindi ho scelto di non partecipare a questa regione, non partecipando a un numero legale, finché io non so, lo stato dell'arte, lo stato dell'arte delle concessioni che sta chiedendo Enel a livello nazionale, fatto richiesto ufficiale di questa cosa, a che punto stanno con le concessioni? Lo renderò pubblico, per aprire una discussione politica all'interno della città, perché è vero che, mi perdoni finisco subito, è vero che il Comune con una mozione ha dimostrato la contrarietà, ma la contrarietà del Comune, anche la mia, anche di tutti gli altri, verbale che esprimiamo, finisce al momento in cui Enel assume le concessioni, quindi per ragione di Stato noi saremo costretti a beccarci il gas anche questa volta. Ci sono tante idee anche in città, c'è un po' di fermento relativamente alle possibilità alternative relativamente alla riconversione della centrale di Torre Valdalica Nord, cosa pensa di queste idee, le vuole ascoltare, le vuole fare proprie? Assolutamente, sono idee positive, è il mondo che sta cambiando, è l'evoluzione, è il progresso, siamo noi che saremo costretti a rimanere legati ad una dinamica e ad una logica che Enel l'ha usato per 70 anni in questa città, ha parlato con coppo con pochi, ha privilegiato pochi e ha discadito di tutti e stavolta per quello che mi riguarda e per quello che posso fare con il ruolo che ho, cercherò di fare la mia parte, renderò pubblico tutto quello che so e vi ho detto quello che ho fatto fino adesso, ho cercato di assumere informazioni che ancora non mi hanno dato, a livello regionale, per sapere lo stato delle concessioni sulla riconversione a cazzo della centrale, non me l'hanno dati, ma la commissione non sta andando avanti perché io non ci vado. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, David Porrello, plaude alle linee guida del Ministero Patuanelli sull'idrogeno e chiede la collaborazione della Regione Lazio. È motivo di soddisfazione di Chiara Porrello che il MIUR abbia pubblicato sul proprio sito le prime linee guida per la ricerca italiana sull'idrogeno, riconoscendo il ruolo centrale che questo avrà per il nostro nell'ambito del Green Deal europeo e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe. Lo stesso Ministro Patuanelli oggi ha ben spiegato come con investimenti mirati e sinergia pubblico-privato l'Italia possa ambire da qui a 5 anni a diventare un importante competitor nella produzione di idrogeno verde. Secondo Porrello, il Lazio può e deve giocare un ruolo di primo piano, ma solo all'interno di un'Italia che abbia colmato il gap con le altre nazioni e si sia dotata delle risorse e delle competenze necessarie ad affrontare la suggestiva sfida di un'energia veramente pulita, da applicare a tutti gli ambiti nei quali ora purtroppo spadroneggiano fonti non rinnovabili. Il rilancio della competitività del sistema portuale e logistico dei porti di Roma e del Lazio, anche attraverso la completa digitalizzazione delle procedure doganali e l'interoperabilità dei sistemi. È l'obiettivo principale del protocollo d'intesa firmato ieri tra Autorità di Sistema Portuale e Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il servizio. Il direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centro-Settenzionale, Francesco Maria Di Maio, hanno siglato l'accordo che dà attuazione ai protocolli quadro recentemente siglati dall'Agenzia con Assoporti e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il principale obiettivo è il rilancio della competitività del sistema portuale e logistico dei porti di Roma e del Lazio anche attraverso la completa digitalizzazione delle procedure doganali e l'interoperabilità dei sistemi. Il protocollo, oltre ad istituire una cabina di regia che definisca e coordini le attività da svolgere e che dovrà riunirsi con cadenza mensile, prevede anche la partecipazione dell'Agenzia Dogane e Monopoli alle sedute del Comitato di Gestione, nel quale vi siano all'ordine del giorno argomenti di interesse e alle sedute dell'organismo di partenariato della risorsa mare in qualità di uditore. Con l'attenzione che l'Agenzia pone allo sviluppo del sistema portuale, dichiara il Direttore Generale delle Dogane, Minenna, si intende contribuire attraverso la razionalizzazione e la digitalizzazione dei servizi indispensabili alla vita dei porti a generare valore aggiunto per il sistema paese. Contiamo così di sostenere prima ad ogni altra cosa l'import e l'export via mare, ossigeno per la nostra economia e il nostro sistema logistico. Grande soddisfazione sarà espressa anche dal presidente dell'autorità portuale Di Maio. Oggi si è avviato un importante processo, afferma il numero uno di Molo Vespucci, che porterà, tra le altre cose, a velocizzare le procedure riguardanti il controllo delle merci e che faciliterà ulteriormente la costituzione di un corridoio doganale controllato relativo alla trattaporto di Civitavecchia, Pomezia e Santa Palomba, nello sviluppo del cosiddetto Smart Terminal sdoganamento in mare, oltre all'efficientamento della logistica e della sicurezza dei controlli doganali nel porto. Ma il protocollo d'intesa, conclude Di Maio, diventa importante e funzionale anche alla creazione della zona logistica semplificata. Tra i tanti contagiati dal Covid-19 in città c'è stato anche un noto personaggio della pallavolo locale, ovvero il direttore sportivo dell'ASP, Patrizio Stefanini. Dopo essere stato a contatto con una persona già contagiata, Stefanini si è messo in auto isolamento e poi è risultato anche lui positivo al coronavirus. Inizialmente asintomatico, il dirigente rosso-blu ha poi avvertito alcuni sintomi dell'epidemia, soprattutto legati alla respirazione affannosa e alla mancanza di gusto. Nei giorni scorsi le condizioni di Stefanini si sono normalizzate fino al risponso negativo del tampone. Con Patrizio Stefanini oggi non parliamo molto di pallavolo, ma parliamo di un'esperienza purtroppo non simpatica che gli è avvenuta perché Patrizio è rimasto contagiato dal Covid-19 e per fortuna adesso è guarito da qualche giorno. Ci racconti di questa esperienza che c'è stata per te? Ciao Giovanni, sono stato uno dei vontaggiati a Civitavecchia e è stata un'esperienza comunque abbastanza forte anche se dal punto di vista della malattia non ho avuto grossissimi sintomi. all'inizio ho giusto un po' d'ansia dettata anche dal periodo, però levati quei lievi sintomi che comunque portano alla malattia come la perdita del gusto, la perdita dell'olfatto, qualche lieve, chiamiamolo lieve proprio problema respiratorio, diciamo così, un affanno abbastanza insistente ai primi giorni, però nulla di preoccupante, neanche febbre, però diciamo che comunque quando ci passi il cervello viaggia e quindi di pensieri te ne fai, però fortunatamente è andata bene, quindi va bene così. Non è stato sicuramente un periodo diciamo così tranquillo per te, ovviamente sei stata a casa per tanti giorni, dodici giorni durante la tua quarantena praticamente, quindi diciamo sì, è una situazione non semplice da affrontare. No, guarda, il discorso è un po' come tutte le cose, no? Fino a quando non ci passi poi non ti rendi bene conto, anche se ripeto, il decorso del periodo, durante questo periodo è stato tutto abbastanza tranquillo, sotto controllo e quando ti dico che il cervello viaggia comunque ti fai tanti problemi anche per i tuoi cari, i tuoi familiari, speri che comunque di averli protetti, diciamo, anche perché come la maggior parte delle persone non ti accorgi di essere positivo, infatti io fino al tampone di controllo ero totalmente asintomatico, i sintomi si sono poi manifestati in seguito e però anche perché credo che la maggior parte della gente, come ti dicevo, probabilmente si contagia proprio quando abbassa la guardia, ad esempio in casa, perché comunque fuori tutti adottano, o la maggior parte almeno, adottano tutte le restrizioni del caso, poi è quando si abbassa la guardia che magari te lo becchi, ecco, diciamo così. Il nuovo esordio della Flavioni nel campionato di Serie A2 potrebbe avvenire prima di Natale. Questa è la decisione presa dalla FIG dopo il rinvio delle prime tre giornate a causa dell'emergenza Covid-19. Il primo impegno per la squadra di coach Patrizio Pacifico è stato fissato per il 13 dicembre, sempre in trasferta, non più a Conversano come previsto inizialmente, ma a Pontinia. Ed a Conversano le giallo-blu ci andranno la settimana successiva, con un inizio senza gare casalinghe. Per l'esordio al Palasport in Solera Tamagnini bisognerà aspettare fino al 17 gennaio per il match contro la Retusa. Ovviamente anche il nuovo calendario è suscettibile di variazioni a causa dei problemi legati al coronavirus. Continuate a seguirci sui nostri profili social alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it